Adesso gli aggiornamenti sul traffico e meteo, per noi c'è Alessandra Canale, buongiorno a te. Buongiorno Giuseffine, grazie della linea, viabilità in fase di vivacizzazione, soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino, con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche, che al momento proseguono con regolarità, come si evince dalle immagini che monitoriamo d'altezza di Fiorenza. Sulla 4 invece, sull'ettrato capitolino della 24, peraltro interessato da una pioggia, e abbiamo delle code, come possiamo vedere, comunque flussi veicolari vivaci, penalizzati dalla pioggia, ma anche sta piovendo sulla 12 tra Maccarese e Santa Marinella, ma anche sulla 1 tra Roma e Ceprano e anche in area abruzzese tra Prato, La Peligna e Pescara. Prudenza alla nebbia sulla 24 tra Valle del Salto e L'Aquila. Ad ogni modo ci sono delle criticità, che andiamo ad approfondire con l'ausilio della grafica, partendo dalla 2, Autostrada del Mediterraneo, perché è stata istituita una riduzione di carreggiata per un incidente in prossimità dell'area di servizio Frascimento, in direzione della 30. Le provisioni del tempo che sono confermate dall'Aeronautica Militare, ci ha comunicato che appunto ci sarà un maltempo su Sicilia e Sardegna, con fenomeni intensi, variabili al centro, stabili altrove. E proprio in Sicilia abbiamo degli straripamenti che interessa la strada statale 288 di Aidone e tra questi straripamenti interessano il tratto tra masseria abbandonata e masseria tenutella. Mi fermo qui e grazie per l'attenzione, buona giornata a te e l'appuntamento a più tardi. A te Giusefine. Grazie, ciao Alessandra.